La prima volta che incontriamo la parola ebreo nella Bibbia è in Genesi 14,13 ed è usata in riferimento al patriarca Abramo. Prima di questo uso nella Genesi non c'è nessun'altra fonte antica che usi la parola ebreo per riferirsi a un gruppo di persone specifico. Ancora oggi gli studiosi discutono sull'origine e sul significato della parola, insomma le teorie abbondano. Alcuni studiosi ci dicono che ebreo è un termine che si riferisce a una nuova cultura fondata da Abramo. Altri ancora dicono che la parola è usata per riferirsi alla prima religione monoteista del mondo. Altre persone ancora sostengono che ebreo è correlato alla parola kadica babilonese apiru, che significa vagabondo, emarginato, uno che non ha legami etnici o regionali. Quando la parola è pronunciata in semitico antico è simile a ipuru. Ipuru era usato in Canaan e nelle aree circostanti come termine che significava semplicemente stranieri o vagabondi. In termini di studio dell'ebraico moderno quasi tutti concordano sul fatto che ebreo significhi attraversare. Questo si riferisce al modo in cui Abramo attraversò fisicamente il fiume Ufrate per viaggiare in direzione della terra di Canaan. Tuttavia direi che la parola ha anche una connotazione spirituale. Non solo Abramo attraversò fisicamente dalla sua vecchia città natale pagana nella terra, che sarebbe diventata Israele, ma passò anche dall'adorare falsi dei e dall'essere in ribellioni a Dio all'adorazione del creatore e obbedirgli. In sostanza, tutto questo dibattito sul vero significato della parola ebreo è se la parola fosse originariamente usata come termine religioso, raziale o culturale. Direi che è stato usato in tutti e tre i modi. Inoltre, l'ebraismo ha anche una propria inclinazione unica sulla parola ebreo. Il giudaismo vede la parola ebreo come un termine che si riferisce alla promessa del patto che Dio fece ad Abramo, che poi ratificò lasciando la sua città natale in Mesopotamia e spostandosi a sud nella terra promessa. E sebbene, come già detto in un video dedicato, non sia corretto chiamare Abramo il primo giudeo, è corretto affermare al 100% che la linea ebraica iniziò con Abramo, che passò il testimone a Isacco, che poi lo passò a sua volta a Giacobbe. E fu Giacobbe che, dopo aver lottato con una figura misteriosa, fu ribattezzato con il nome Israele. Infine fu il seme di Giacobbe a dare alla luce le dodici tribù di Israele, inclusa la tribù di Giuda, la cui discendenza diede alla luce il Messia e gli ebrei come li conosciamo oggi. Quindi capiamo che l'applicazione della parola ebreo inizia con Abramo e prosegue attraverso Isacco e Giacobbe, alle dodici tribù di Israele, alla tribù di Giuda, da cui discendono gli ebrei moderni di oggi. E questo fu davvero un adempimento della profezia che attraverso Abramo il mondo intero sarebbe stato benedetto. Ma la scrittura dice anche che il vero giudeo davanti a Dio non è chi è circonciso nella carne ma non nel cuore, ma chi è circonciso anche solo nel cuore. Per cui, chiunque desideri diventare uno con il popolo di Dio, in Yeshua non siamo tenuti a circonciderci, ma a passare oltre, passare dall'impurità alla purezza, dall'ordinario al santo, dal deserto all'oasi e dalla morte alla vita. Non possiamo aspettarci di rimanere nel deserto di questo mondo caduto in cui viviamo e che automaticamente la nostra terra di riposo venga da noi. Siamo in un viaggio spirituale e dobbiamo prendere la decisione di entrare nel regno di Dio in modo da possedere la nostra eredità. Dobbiamo lasciarci alle spalle il deserto di questo mondo malvagio. Siamo in un viaggio spirituale e dobbiamo prendere la sua protezione.